Buonasera a tutti, dovevo in qualche modo farmi perdonare per la mancata pubblicazione del video mattinale, ho avuto dei problemi tecnici a caricarlo, per cui mi scuso con voi e mi sembrava però a questo punto doveroso fare un video serale di riepilogo di quanto è accaduto nella giornata odierna, perché comunque è stata una seduta di borsa decisamente interessante. Parto con la condivisione dello schermo, iniziamo dai volumi scambiati oggi che sono finalmente in leggero aumento, 2 miliardi 220 milioni, perché c'è stata un po' di volatilità, c'è stata qualche accelerazione a ribasso, poi magari ricoperta, la più clamorosa lo vedremo dopo, tra i titoli fuori dal FTSE BIM probabilmente è stata CyberU, ma c'è stata un'accelerazione per esempio fortissima anche di Saras con un parziale recupero dai minimi poco sotto area 1,40. Ma partiamo con ordine come nostro solito e iniziamo dagli indici americani. Cominciamo dal Dow Jones, in questo momento è in una situazione in realtà abbastanza tranquilla perché è ancora lontano il livello chiave di breve periodo che è 32.500 e comunque non è stato avvicinato neanche il minimo di ieri che è stato 32.612, oggi abbiamo fatto un minimo a 32.710. Per quanto riguarda lo Standard & Poor, anche qui situazione tutto sommato abbastanza tranquilla perché il primo livello importante è ovviamente il minimo di ieri che è 3.970, poi invece c'è l'importantissima media mobile a 200 che per oggi è 3.941, il Nasdaq aveva provato nella prima parte di giornata di apertura del mercato americano a accelerare rialzo facendo massimo 11.667, in questo caso non deve perdere 11.487 minimo di ieri e poi la media mobile a 200 11.405. Per quanto riguarda invece gli indici europei, il DAX è sostanzialmente su una doji e non è riuscito a superare 15.706 ma allo stesso tempo non ha perso neanche il minimo di ieri 15.524, il CAC è in una situazione anche qui analoga perché una doji con minimo 7.274 e ha chiuso tra l'altro il gap che era stato lasciato aperto a 7.286, il livello chiave per il breve è 7.169, Eurostox anche qui abbiamo sostanzialmente una doji, qui rimane da chiudere il gap lasciato aperto a 4.241, il nostro futures invece è in una situazione di tranquillità ma deve assolutamente tenere 27.545 che è il minimo del 3 di marzo perché sotto questo livello rischierebbe di perdere anche questa rialzista partita dai minimi del 30 di dicembre scorso e si aprirebbe uno spazio fino a 27.060, essendo domani oltretutto venerdì vedete a livello settimanale abbiamo proprio un 27.060. Adesso diamo uno sguardo anche al dato macro che è uscito negli Stati Uniti alle 14.30 e è un dato in realtà che nell'ottica di politica monetaria della Fed non è neanche così negativo, anche se è un dato negativo perché le richieste iniziali sul sito di disoccupazione sono state più alte, 211.000 rispetto alle 195.000 previste. Dedichiamoci ora ai titoli del Futsimib che si sono mossi meglio e quelli che si sono mossi peggio e poi ovviamente andremo a lavorare fuori dal Futsimib perché ovviamente i movimenti più interessanti come abbiamo visto essendoci più volatilità sono sicuramente tra i titoli a bassa capitalizzazione o comunque non di certo nel Futsimib. Anche se oggi c'è un Futsimib un po' spaccato perché ci sono titoli comunque forti, prismian su tutti, prismian ennesimo nuovo massimo storico a 40.07 con volumi anche molto alti, in questo caso è piaciuto molto al mercato il bilancio appena uscito, è un titolo assolutamente da mantenere per chi lo avesse ancora in portafoglio, lo stop profit valzato a 38.8. chi invece è rimasto fuori come sottoscritto bisogna attendere la chiusura del gap lasciato aperto a 36.8 sul massimo del 2 di marzo. Ben comprata in un contesto comunque di mercato debole l'Amplifon perché comunque continua a stare sui massimi di breve periodo, io ho uno stop profit sotto 28.99 perché detengo il titolo nel mio portafoglio della newsletter finanziaria, se dovesse riuscire anche a rompere questi massimi in breve periodo per cui andare sopra 30.36 allora si aprirebbero degli spazi di ulteriore salita fino addirittura a 32.56, 32.70, 32.83. Oggi segno di risveglio da parte di Nexi che sembra voler comunque riassorbire almeno parzialmente la forte discesa di martedì, per domani è possibile un STM che addirittura fa un massimo a 47.485, adesso è al momento una spinning top a livello di chiusura giornaliera daily di mercato azionario diurno, poi ovviamente i movimenti in after hour non vengono rilevati da quasi nessun software di analisi tecnica, però come vi avevo già detto nel recente passato e l'ho ricordato oggi nella diretta su Cassi NBC nella trasmissione analisi tecnica, addirittura il target diventa almeno 48.8 massimo di maggio 2001. Veniamo invece alle note dolenti, è stata molto venduta a Fineco, Fineco è in una situazione di correzione ormai conclamata di breve perché oggi perde sia il minimo importante di 15.61 quello del 3 di gennaio, aveva perso anche ovviamente quello del 22 di febbraio che era stato a 15.65, ma anche la media mobile a 100 posta a 15.56, chiudendo a 15.50, per cui per le prossime sedute è possibile un'ulteriore accelerazione a ribasso fino a 15.305 e poi fino a 15.03. Per quanto riguarda invece un altro titolo che oggi ha fatto piuttosto male è stata Buzzi, che io sono riuscito a fare bene ma non benissimo perché ho mancato di poco il secondo giro perché ero a 20.51, il titolo ha fatto 20.53, ho fatto il primo, ho fatto 21.21.20, nulla di che, ha rimbalzato in maniera quasi millimetrica dalla media mobile a 50, 20.60, ha poi chiuso a 21.05. Qui era uscita un'indiscrezione per cui Buzzi fosse pro-Russia, comunque non ha avuto ancora modo di approfondire bene, magari sperando che domani mattina riesca a caricarlo, ne riparlerò nel video mattinale. Poi abbiamo Banca Generali, anche qui devo dire una discesa abbastanza pesante e in questo caso, visto che è stato perso molto facilmente il livello di 31.61, il target per le prossime sedute è almeno la media mobile a 200, 30.06. Poi sempre nel risparmio gestito debole anche Azimut, Azimut ha rotto il minimo di 21.82 che era al minimo dell'11 di gennaio e adesso punta a 20.72, anche qui oggi c'era il CDA per cui bisogna anche, io lo farò più più tardi, mi rileggerò tutti i dati, però ovviamente le società che hanno pubblicato i propri dati di bilancio sono molto più volatili. Veniamo invece ai titoli più sottili che hanno avuto dei movimenti interessanti. Allora, Gabetti, io Gabetti non vi nascondo che me la sono proprio lasciata scappare perché stavo facendo altro, oggi è stata una giornata abbastanza frenetica, molto interessante il movimento odierno per due motivi, primo perché comunque ha fatto più 7,77%, secondo perché i volumi sono stati in crescita significativa e terzo perché ha rimbalzato dalle medie mobili a 150 e ha superato anche in 3 quella a 200 confermandola poi in chiusura a 1,167, per cui in questo caso il titolo può proseguire anche domani fino a 1,258, 1,282, magari metto un attimo su Sfera, vedete nel frattempo che stiamo tornando giù sul FIB, questo è il FIB tick by tick, vedete dopo il recupero che c'era stato fino a circa le 16.07, poi adesso siamo di nuovo giù, vediamo un attimo il movimento di Gabetti, ecco nel finale me l'ero proprio perso, vedete serve anche a me fare i video per la nostra community finanziaria. Poi PRL invece l'avevo seguita, non l'ho fatta, ma qui erano usciti degli ottimi dati di bilancio, però vedete attenzione, se io avessi comprato in apertura avrei comprato a 0,20, è vero che poi il titolo è andato a 0,2075, ma poi chiuso a 0,19, quindi vedete che operare sulle notizie non è mai facilissimo, per domani il rischio è un ritorno almeno sulla media mobile a 0,1834 e ha comunque un gap da chiudere a 0,177. Dobbiamo poi parlare, perché è stato, ve l'ho già accennato in precedenza, il vero numero di giornata per me è stata CyberU, perché ieri il titolo aveva perso il 9,40%, oggi è andata in traditura a fare il 5,46, poi ha chiuso a 6,14, quindi vero numero di giornata, per cui domani è assolutamente da seguire. Poi, seppure i volumi sono abbastanza bassi, ha fatto un bel movimento deodato, allora abbastanza bassi perché il controvalore è meno di 70.000 Euro, però per deodato 66.000 pezzi non sono pochi, oggi è andata in sospensione per eccesso e rialzo, massimo 1,12,5, poi chiuso a 1,09, per cui per domani almeno 1,16,5 io me lo aspetto. Altro titolo, perché anche quando vengo umiliato, io lo riconosco sempre, è stato in Novatec, io ho stoppato martedì, oggi ha fatto veramente un bel movimento, solo l'unica pecca è un po' i volumi, massimo intraday 1,55,7, chiusura 1,52,9, c'è da dire che non è riuscita a recuperare il supporto statico importante di area 1,56, per cui al momento è solo un ribalzo, se domani dovesse andare sopra 1,56, probabilmente fino a 1,61 si può tranquillamente riportare. Poi sicuramente devo parlarvi di Alerion, perché finalmente c'è stata, io per carità lo riconosco, sono di parte perché ce l'ho nel portafoglio della Ministeria Finanziaria, sono stati pubblicati i dati di bilancio molto buoni, devo ammettere che Alerion è già correttamente prezzata dal mercato, però su questa rottura della trendline ribassista e superamento della media mobile a 50, 31,56 per le prossime sedute può arrivare fino a 33,45 e poi fino a 34,50 dove transita la media mobile a 200, quindi sicuramente Alerion molto bene. Benissimo anche da amico, perché dico benissimo? Perché comunque ennesimo massimo di periodo, anche qui pubblicazione dei dati, nuovo massimo a 0,505, poi ha fatto una sorta di spinning top, però se guardiamo su time frame mensile vedete che il titolo è indirizzato al massimo di gennaio 2016, 0,5834. Il bilancio mi è piaciuto molto, c'è ancora un po' il problema del debito che sinceramente è ancora abbastanza elevato, però devo dire che avendo fatto un ritorno all'utile e un utile anche abbastanza sostanzioso, il problema non sussiste. Dei longhi ve la faccio ancora vedere perché, perché oggi ha fatto un massimo in 3,24,2, ha poi chiuso a 23,14, ha un micro gap da chiudere domani a 22,96, però visti i volumi che ha scambiato è un titolo che sicuramente terrei sotto osservazione. L'ultimo titolo tra i migliori di cui dobbiamo parlare è TXT Solution, che praticamente è in area di massimi storici, anche qui se non erro poi correggetemi perché ne sono usciti parecchi, dovrebbero essere usciti i dati, e in questo caso è un titolo che va mantenuto con uno stop profit sotto 18,82. Per quanto riguarda invece i titoli peggiori, allora c'è stata subito la contro candela di, vabbè facciamo una cosa, partiamo da Fenix anche se ormai è superfluo, il titolo anche oggi ha perso il 13%, è un titolo purtroppo da non guardare più, è inutile anche soffermarsi, ve l'ho voluto ricitare perché ve l'avevo già parlato qualche settimana fa. Neurosoft fa la contro candela rispetto a ieri, rimane il gap da chiudere a 0,615, però a questo punto è inspiegabile il movimento che ha fatto ieri. Molto debole Saras che fa un minimo intraday a 1,39 e mezzo, chiude anche sotto la media mobile a 50, 1,43 e 1, per le prossime sedute sotto 1,37 e 9 il titolo potrebbe arrivare anche fino in area 1,30 dove transita la media mobile a 100. Poi abbiamo Somec che continua a essere molto debole, il titolo scambia poco, ha lasciato un gap aperto a 28,6, il target qui potremmo identificarlo addirittura a 24,7 prima di eventualmente provare un acquisto. Poi abbiamo molto debole anche Aquafil, Aquafil vediamo che punta in maniera decisa al supporto statico di area 5,15, sotto 5,15 può arrivare anche fino a 4,96, 4,92. Continua la debolezza di fincantieri, i dati proprio non sono piaciuti, oggi addirittura perde il minimo di ieri, di conseguenza il target per le prossime sedute è almeno 0,51,45 e poi 0,509. Correzione anche per Acea, a me i dati di bilancio che erano usciti peraltro ieri non mi sono piaciuti, ha perso la media mobile a 200 post a 13,39, è praticamente molto vicina al primo target importante che è 12,63, sotto può arrivare a 12,39 e poi addirittura in area 12. poi abbiamo ancora modo di parlare di Mondo TV che sembra un po' arrivata di breve, diciamo che sotto 0,672 che è il minimo di oggi e il minimo di ieri può arrivare fino a 0,613. poi molto debole anche Salvatore Ferragamo che è a rischio di rompere questi minimi importanti di 17,31 e portarsi quindi sulla media mobile a 117,07 per poi arrivare fino a 16,31. poi abbiamo ancora autostrade meridionali, autostrade meridionali siamo praticamente arrivati a un minimo di 14,10 e rimane questo primo gap, ne aveva tre, uno l'ha già chiuso, rimane il secondo a 13,95 che potrebbe chiudere anche domani poi c'è quello a 12,45. Ancora debolezza su Tinexta perché comunque aveva già ieri rimbalzato dalla media mobile a 100 chiudendo con una doji, media mobile a 123,33, oggi ha rimbalzato da quella a 200 posta a 22,62, ha fatto un minimo a 22,64 per cui anche Tinexta piuttosto debole. Proseguiamo con IMSI, una correzione su IMSI a mio avviso ci sta assolutamente perché il titolo è su massimi importantissimi. In realtà è una correzione minima, domani potrebbe arrivare fino a 0,603 e poi andare fino a 0,593. Vediamo ancora come titolo che non ha dato sicuramente un buon segnale, unidata perché non si è più ripresa dalla BB e vedete che se andiamo a mettiamo magari un settimanale che si vede un po' meglio vedete che il target può essere almeno 39, almeno 39. Continua la debolezza, e ve l'avevo già detto, di take off, è vero che scambia poco però attenzione perché si sta avvicinando alla chiusura del gap lasciato aperto in area 3,30. Come ultimi due titoli parliamo di Mutui Online perché sicuramente è in una fase di correzione e potrebbe questa correzione proseguire almeno fino alla media mobile a 100,265 e poi quella a 200,25,48. Ultimo titolo di cui parliamo questa sera è Railatec, Railatec in realtà ne parliamo ma fa una candela inside e perde sì il 2,5% ma il livello di 2,16 ha tenuto sotto 2,16 e comunque 2,14 è diciamo in una zona dove transitano tutte le medie mobili principali. Quindi domani vi aspetto prima dell'apertura del mercato diurno, auguro una buona serata a tutti e mi raccomando per chi può segua il mercato in queste giornate perché dobbiamo ancora capire se è solo una correzione salutare oppure se è l'inizio di un'inversione di breve che per quanto riguarda il Futsimib potrebbe portarci fino a 24.900. Buona serata a tutti!